Sono Luca Barbieri, sono un giornalista specializzato in innovazione con Bloom Vision, stiamo accompagnando le start-up italiane al CS di Las Vegas. Il CS del 2023 sta presentando il trend dell'anno che sta iniziando, molta intelligenza artificiale, cyber security, 5G, sicuramente un salto tecnologico che può aiutare le imprese a livello globale e a livello italiano in questo anno di sicura transizione. Nelle 51 start-up che sono qui ospitate e rappresentate si possono trovare un po' tutti i trend principali della tecnologia mondiale, dall'intelligenza artificiale, produzione di contenuti e ovviamente il fatto di sfruttare le reti neurali per aiutare anche a migliorare la produzione, ma anche la realtà aumentata, la realtà immersiva, tutto quello che connette il digitale e la manufattura. Questo ha supporto sia della valorizzazione del patrimonio artistico, ci sono moltissime applicazioni che ci permettono appunto di gestirlo, di in qualche modo valorizzarlo anche da remoto, ma anche tutte quelle applicazioni che consentono manutenzione predittiva e remotizzazione appunto del controllo nelle nostre fabbriche. 51 start-up, 51 promesse per l'Italia che innovano.